Ok io sono Io sono ready Vado indietro Dovete fare plan heist Scegliere la mappa Che dovrebbe essere già presa da me Difficoltà medium Sei sicuro? Assolutamente Tiktok è il male ragazzi Scegliere loadout E poi let's go Quindi va bene così Let's go Sono molto casata all'idea di imparare così il gioco Così non sei cattivo Ti piace il cioccolato? Sì Sei stato cioccopesciato coglione Scusa Ma vabbè ma siamo dei pinguini No ma siamo dei pinguini Siamo facendo sesso Chi è questa terra che vibra? Ma come si sta in piedi in sto gioco? Tata Ma come mi alzo? Oh mi sono alzato Oh 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 E tu quello che si parla Lo so già No Ma com'è che lui ha la pistola Io no? Oh posso boncare persone Bon Ah con la bonca Grazie 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 Ti tiro su Ti tiro su Sono un amico Volevo solo boncare gente Ma Ragazzi fermi Importantissimo Fermi Con N fate NUT Sì lo so Lo so Ragazzi ho un problema Ho un problemino Uno solo Shut up Io non ho le armi Non ho niente Ma non le hai messo? Non le hai messo? E per fortuna che ti sei visto il tutorial Sedia Ma non c'era Non c'era scherzo No sedia C'era il loadout Da metterci le armi Buona serata È stato bello È stato bello No no dove sta andando sedia? Dove sta andando sedia? La barba mi ruba La barba mi ruba La barba mi ruba La barba mi ruba E quindi dobbiamo trovare le armi per sedia? Mi dispiace sedia Dovremo supprimerli Possiamo fare un restart velocissimo Vabbè Oddio Premete control Premete control Premete control Esatto fate control raga E perché con shift escono Ah ci sono io I pinguini buoni pinguini cattivi Scusate vado solo per il meme A boncare questo pinguino Poi la restartiamo Serve Voglio solo a boncare questo pinguino Ma è un mago Traveler I need your urgent help You must help destroy This game is currently in session Sto rientrando ragazzi Perché mi sa che sono uscita Let's go No 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 ma ora è Se usciamo tutti così Lo rifaccio e fai il loadout Mi stanno già insultando in chat È bellissimo Fantastico No mi avete ucciso Sotto mi è ucciso 6.000 per l'abbonamento Un regalo Let's go Chat Fat Ci siamo Raga Non lo so Ho scoperto Una cosa bellissima L'ha scoperto L'ha scoperto Bertra l'ha scoperto Ragazzi Raga come faccio ad uscire da qua Live Ragazzi fate Noot noot E Come si dice E alzate o abbassate la mira Li piccia alti o li piccia basse Veramente Sì È la cosa più bella del mondo Ok Ma io ho fatto live Vaffanculo Ma non mi fa gioinare Mi dice pure a me Oh 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 Refresh La rifaccio La rifaccio dai Va bene Leonardo Bru Va bene Ti ringrazio Gentilissimo Guarda solo per te In quanto sei mio Conoscente Conoscente Mamma mia Grave L'hai preso sul personale qua Assolutamente Oddio Io andrò a clippare la parte in cui dico che in realtà ti voglio molto bene E te la manderò Non c'è mai stata Sta palesemente andando a registrarla in falsi Sì mamma mia Sentite Ho capito Va bene che so usare un programma di editing Ma questo non vuol dire che falsifico tutto quello che faccio A proposito di programma di editing Sì L'altro giorno abbiamo visto un fitus video di sedia Ah è vero Che cosa hai detto? Sì è bruttissima come parola non dirla mai più Però era un video vecchissimo tuo Quello di Kingdom Hearts Ma state scherzando? L'ho già sgridato Sì sì ce l'ha reggito in live Oh no No io volevo dire che a me è piaciuto Anche perché ho capito un cazzo di Kingdom Hearts Però mi è piaciuto Sì ma è vecchio tipo che io parlavo un po' così Io volevo sapere quanti anni ha quella cosa? Eh ce l'ha L'ho fatta nel 2016 2016 Minchia Ok no allora sì No perché mi chiedo minchia Cioè deve essere tanto vecchio perché è migliorato un botto sull'edit Ma se tu guardi Così gli do un bacino in fronte Guarda totta Se tu guardi un video di Non dico un anno fa Ma un anno e mezzo fa Vedrai un ribaltamento allucinante Sì? Dei contenuti Sì 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 Ok Svegliatevi il prossimo martedì No 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 Io sono nella lobby Gennarone poi Ah ok allora Serve il list Non sei in Madagascar Ma io non vedo Gennarone Ma io non vedo Gennarone Non vedo Gennarone No Non vedo Gennarone Hai messo region europe? Sei in America o? C'è Madagascar Io ho trovato Gennarone Ok l'ho fatto appena distrutta Nel momento in cui l'hai trovata l'ho distrutta la lobby Perfetto va bene Vai in Europa Possiamo andare in Europa ragazzi Ah l'ho trovata L'ho appena distrutta Quindi non esiste più quella Ma in Rio region europe raga Troppo noi Ah deve andare in Europa? Sì Sediamo a Leo e Bertra Ma soprattutto La bellissima ragazza che sta leggendo questa live Esattamente Sto facendo la lobby Piscione In Europa o no? Piscione Stavolta Server list Penso di sì C'è scritto in basso a destra Leo Prima di fare la lobby La lobby Penso di sì No non vuol dire niente Penso di sì Oddio Prima non sono stati tutti sti problemi Ho fatto la lobby Siete entrati Sì prima era in America Allora si trova in America Oh no It's grounded All over again Sì è ancora in America Dicci la password animale È sempre la stessa Server list Vai Forza Però in America In America Piscione Plena heist È sbagliata la password È sbagliata? Sì Forse con la maiuscola No 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 Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ok giusto Allora guarda Io Hai già scelto tutto no? Sì Sengo il posto Ciao Novi beast Benvenuti in live Benvenuti in live Ciao ragazzi Se volete venire Sono su Twitch Fatti il loadout Infatti Per l'amor di Dio Arsenal Ok allora Io prendo tutto Perché non si sa mai Esatto Sì 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 Ci sta Perfetto Continua Remember to bring Enough weapons Bellissimo Esatto Non te lo sei ricordato Perché sei tutto Perché sei tutto In caps lock Nel menu Sedia Esattamente Perché devi nominarmi così Ciao Sedia Sedia A tre gambe Oh Oh Cos'è sta È una mucchiata ragazzi Oh con calma Oh raga Lascia un cattivo Lascia un cattivo Lo vedete Perché è cattivo? Perché hai deciso che è cattivo? Faccio riconoscere chi è chi Noi siamo bianchi Io sono io Ma c'è un modo magari Per mettere Tu che hai fatto un tutorial C'è un modo per avere il nickname Questa è una bellissima domanda A cui non so rispondere Faccio il voto per buttarti fuori Avete sentito che si sente il bonk sound Chi è? Chi è che sta andando lì sotto? Sto arrivando Guardate raga C'è una roba qua Venite venite da me No no Totteleo venite Guarda C'è un buco C'è un pinguino Aspettate lo fezzo malissimo Sto pinguino Oh no è vero Venite c'è un pinguino Venite il buco sedia Grazie mille per l'abbonamento Il regalo Ancora Grazie mille Un bacione Ma un bacione Ragazzi in casa Oh no di nuovo grounded Oh chi state Oh quella è mia madre Quella è mia madre Ah no non è mia madre Scusate Ma perché avete picchiato me? Non è molto precisa La mira di sto gioco Un pesce Un pesce Un pesce Come si piglia? Fermi tutti ragazzi Fermi tutti Dite addio Ok 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 Ma ragazzi è brutto che io non posso sapere chi siete Perché così non posso Vabbè così vai senza pregiudizio Oh ragazzi Me la sto svelando Aiuto No 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 Fermi fermi ragazzi Sparatelo 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 Sono morto Ti tiro su Leo Fermo Scusa Questo è il momento più alto Questo è il momento più alto del game Sì Fermi fermi Non fate niente Ok 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 Cazzo Come si fa? Aspetta aspetta Fermi fermi Non fate niente Sì Leo Sì Leo Quello 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 Io mi chiedo che cosa state facendo Di quello Niente No nulla 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 Venite raga Ci sono i cattivi Se l'hai date con me Era un fa 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 miredo Oh il cattivo il cattivo il cattivo Sparategli Ma con che tasto lo picchiate voi Devi prima mirare Chi è che gli ha sparato davvero Eh devo mirare con la mazza Sì Cosa c'era bisogno Probabilmente aveva famiglia lui Raga che cazzo è Cristo Gio Vuole un pesce Fermi Io sono andato a liceo Con un'entità simile Come prendi il pesce Come prendi il pesce Io questa domanda non la rispondo Non la rispondi Non la rispondo no Mi raccomando non rispondo Come si prende il pesce Ragazzi io ho Venezia Mestre Simulator Esatto Accolete, Pinguino, Camorra, Simulator, Palermo e Catanzaro Esattamente quello Chi sei tu da solo col pesce Chi è il pesce Chi è il pesce? Reru, reru, reru Leru, 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 leru Guardate così sembra un polletto Guardate Sembri Michael Phelps Oh chi gli ha sparato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Il pesce È stato il pesce Guardalo Bastardo infame Non ho detto in chat O Jay Simpson Chi è o Jay Simpson? Oh no, no Beh, Leo, Leo, Leo Su C'è cosa che sta avendo The time over life Proprio Ti mi sto divertendo molto Devo ammetterlo Ok, quindi Oh, gli abbiamo portato il pesce? Gli avete portato il pesce? È il pesce Mi dà ansia Non lo vuole Ma come lo prendi con la mano? Come lo prendi con la mano? Allora, ragazzi Ragazzi Forse dovremmo seguire gli obiettivi di questo gioco Dobbiamo trovare la stanza Mamma mia, è incredibile Che ogni volta Stiamo facendo roba extra Perché Dovevamo andare prima dal cancello Mi sa Non è questa cosa Grazie mille Vincent Vangcio Grazie mille Per lavoramenti Secondarie Un bacione Cosa c'è qua? Ciao bello Oh Oh merda C'è un nemico Mi fezza Mi fezza Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Raga ho trovato un miniboss Pezzo di merda Ragazzi c'è un miniboss Non so vuol dire un miniboss C'è un miniboss Totta Let's go Grazie Grazie Ha un pesce spada Aiutatemi Quanto fai Bertra? Ragazzi Ragazzi Premete all'improvviso alt Premete all'improvviso alt Raga vi prego Prima pensate a me Con la P cambi poi la visuale Ho visto La P Di Paolo La P Raga mi vuole fezzare Salvatemi È la P di persona Ma chi è? Ma che sta succedendo? Crivellatelo di colpi Spara lì Oh ma che faccia che c'ha? Fra Fra Ucciso Si chiamava cult leader Ok fico Ha un pesce È un testimone di Geova Prendetelo Come Scusate ragazzi Mi sono fatto un attimo prendere Per la mia pistola Questo è un problema No devo ricaricare Ah si ricarica con R Ok Wow incredibile Mai visto in video game Proviamo a dare il pesce spada Alla porta Magari si apre Perché è un pesce più grande Il pesce No però guarda Nella foto c'è che non è un pesce spada Vabbè proviamo Ma sotto dove si va? È il ciocco pesce No è il ciocco pesce No Proseguiamo questa caverna Andiamo sotto ragazzi Andiamo sotto Bene Voglio portargli questo Io ripeto È dall'altra parte la missione Non è nella caverna Eh si è dal cancello No io non ci credo Allora ve la dico di metagame So già com'è È dal cancello Qui è la missione secondaria Totta Eh io i ragazzi sono entrata nel cancello Comoda? Ma come? Eh Sei riuscita? Ci si arriva Ah sei tornato indietro? No 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 Tirate dritto dove sta andando io Ma sono in tabaia Madonna Totta comunque Riesce sempre a sorprendermi Vabbè se poi vuoi E questo è che fanno le femmine Ah no aspetta Non è più l'8 marzo Eh sebo Ah di chi si è preso Il merito Beh grazie Oddio c'ho la pistola No 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 Le guardie Spara il barrile rosso Si esplode sicuramente Boom Boom Oh sì Orca miseria È successo davvero? Ragazzi abbiamo fatto partire l'allarme Abbiamo fatto partire l'allarme Oh questo è un problema Questo è un problema È nostalgico La guardia è nostalgica No Perché? Guardala No raga È nostalgica È davvero nostalgica Va al brazzo destro Verso il scello Io mi No Decisamente no Però va bene così Bertra Cosa sta succedendo? Bertra Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Buonasera Catanzaro Lido Ok venite Facciamo un altro giro Allora Di qua Bertra apri No Fati le fasi vostre No Apri Bertra No 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 Bene Bertra Bertra ho la voce di Miku che dice Bertra Bertra Vieni mi dentro No 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 Aprite il portone Oh 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 Gli sbirri Gli sbirri Gli sbirri Gli sbirri Poliziotti Gli sbirri Ah Ok Beccati questo polizia italiana Peccati questo Leccati questo No beccati Oh oh Madonna Comunque Non è un poliziotto È un tifoso del Napoli Oh No please Ci sono le qua Ci sono gli scienziati Guardate Noi è la Kirum Venite di qua Di qua la Kirum Ma cosa spari Licenziati Venite di qua Sedia Ragazzi venite La Kirum è di qua C'è scritto in modo abbastanza esplicito C'è sti qua Si mette Durante il covid Eroi Eroi Tutto quanto E poi guarda cosa Oh Wow ragazzi Ma dove sarà mai la chiave Passa sotto Di qua probabilmente Ehi lei Va in alto No 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 Non sparare Non sparare Non sto sparando No ragazzi Sono downato Le ho attivati io Per sbaglio Sei un plastardo Non volevo Voglio aiutarmi almeno Sono deciduto sul pavimento No Noi stiamo giocando Con dei problemi Mi sta nutando Ragazzi ma ci sono delle sedie Cosa ha detto Fico Lore Eh lo scienziato ha paura E non lo sappiamo Dobbiamo prendere la chiave Come prendiamo la chiave Eh non lo so Dov'è la chiave Beh Non spararmi Lo stai dicendo Non sono con Sedia Oh ho trovato la chiave Aia No Sedia sei conto Io sedia Perché ci ha rovinato la lore Ha ucciso lo scienziato Che diceva cose Aspetta aspetta Sta dicendo qualcosa Non lo sappiamo Sta dicendo qualcosa Stiamo sedia Cosa dice Ponk dice Ecco Sedia Ok allora ragazzi Una cosa che io ho letto È barrel Allora io Allora Usiamo Allora Praticamente Se volete prendere le cose Dobbiamo dropparne una Allora io Ho un unico problema Che non so Come si tolgono gli oggetti Dall'inventario Con la V Perfetto E allora guardate Che faccio adesso Il codo Valevani Ah Tota è morta Tota dov'è Guardate ragazzi Siamo su Fall Guys Tota dove sei andata Andiamo a uccidere Tota Sedia vuoi essere Tota Sì Venite qui ragazzi Ah ok niente È stato breve Venite qui ragazzi Uno scienziato Uno scienziato Non lo uccidere Potrebbe servirci per dopo È vivo Questo strumento Ma questo è un pomodoro signori È il pomodoro Il pomodoro Ma come hai preso la chiave Con le mani Ma cosa vuol dire con le mani A me non le prende le cose Ah no scusatemi Con le pinne Con le mani Guarda 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 ho le mani Ho le mani Ho le mani Le mani Le mani Le mani Le mani Con la vita di l'oggetto E destra e sinistra lo prendi Ho le mani Guardate ragazzi Posso fare anche questo A rusche No Dove dove deve andare la chiave Dove deve andare Allora ragazzi Vieni di qua Mi piace È gratis Il gioco sfortunatamente no Sedia Tota Ho le mani Ho una mano Sedia Sedia Cos'è stata quell'esplosione Ragazzi Mi fanno mal i piedi adesso Spero Spero tu sarai contento Ragazzi ragazzi Importante 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 Va bene Leo Leo che c'hai da dire Alzzavo la mano Avevo una domanda La presa Signora Un ragazzo Un ragazzo esce di casa E fa E Mamma Stasera esco con due mie amiche Le chiavi Sì Spero di sì Allora Penso che di qua Guardia del Napoli Ragazzi Scusate Posso avere un momento Di intimità Gentilmente Ci penso io Ci penso io Ho delle calzettine Non ho paura di usarle Ho delle calzettine Maradona era un calzettine Un calzettine Un calzettine Maradona merda No Mi ha detto di Maradona No Salvate Ragazzi Leo non ha riso nessuno È vero Stato violentemente Ragazzi Abbiamo Stato dormendo Oddio sì Però sta dormendo Non è morto Aspettate un secondo Mi ha infilato la testa Nell'ano Ora è morto E ti è piaciuto? No vabbè Sono vicino ai bidoni Dell'umido Foto Raga Forse ho trovato il pesce Dov'è Leonardo Bru? Dov'è il pe... Sei tu Leonardo? Merda L'altra guardia del Napoli No sono la guardia del Napoli Volevo salutarti Leo Ciao Leo Come stai? Tutto al posto Sedia Ma tutto bene No Dave il 5 Ah eccolo qua Eccolo qua Ok Ok Perfetto 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 Va bene Amici Ho trovato il pesce Ma perché continuate a massacrarmi? E Gabibbo cade in un caffè splash No Decisamente no Tutto Tutto Guardate ragazzi qui c'è il pesce Il pesce Ragazzi volevo presentarmi il mio nuovo amico Si chiama Gennarino Gennarino Ciro Al pesce Possiamo sacrificarlo? Possiamo sacrificarlo? Lo dobbiamo dare dall'altra parte Possiamo sacrificarlo secondo voi? Ah questo dice Ma in realtà adesso dobbiamo dare alla barca È mio Ciro È mio Bertra Bertra lo so che sei tu Adesso è mio Ciro è mio La missione dice la barca Però da qua si rientra nella grotta Ehi È stato un problema Oh no E dov'è la barca? Non lo so però di qua c'è la grotta Facciamo finta che ci dimentichiamo questa cosa Vogliamo andare nella grotta? Venite La grotta Di qua c'è di qua c'è roba Magari qua La grotta Dall'altro lato Dall'altro lato Oh che cos'è accaduto? Di qua ragazzi Ho una chiave Ho una chiave Che cazzo vuoi? Io ho un pesce Di chi? Ah io vado con chi c'è il pesce Perché ho fame Ma perché andiamo nella grotta? Qualcuno vuole il napoletano Sta cominciando un po' a pesare Sì Nessuno vuole i napoletani Una guardia Madonna Sono stato io? L'ho iettato Di qua c'è una roba Mi sa che c'è della lor qua ragazzi C'è della lor? C'è del fuoco Aspetta aspettate che vengo a rovinarla C'è del fuoco Ma è fichissimo Oh potevo Refill a munition Potevo bruciare il napoletano Cos'è questo rumore infernale? È mio padre Ah Che cos'è? Che cos'è? È mio Oddio Vi dico se qua davanti c'è qualcosa Un napoletano C'è un napoletano Cosa? Chi è col me col pesce? Ma io? Chi è per terra morto? Sono io che sto decollando Cosa sta succedendo? È bagatissimo È bagatissimo Vai in una direzione Totto io vado nell'altra Col pesce A un certo punto Uno dei due inizierà a decollare Ma che cazzo? Posso vedere Oh Oddio Ci sono dei problemi Ci sono dei problemi Di collisione Posso provare anch'io? Vieni qui Bertra Posso provare? Forza No chi mi ha preso il pesce? Oddio in tre Sta funzionando Stava funzionando Ho lasciato il pesce Mi ha lasciato il pesce Ragazzi è importante Prendetelo con me Prendetelo anche voi Leo prendi il pesce Ma io sto a fare La guardia E ora? E ora si era Ecco esatto Che cazzo Dove siete andati? Ho raiato tutta la mappa Sto citando in questo momento Siamo out of bound Di brutto raga Non torneremo mai più Siete Ma c'è l'araboreale Leo Siamo rimasti di te Sesso Nell'acqua No il pesce Tienilo tutto No il pesce Cazzo il pesce Arrivo 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 No l'abbiamo perso Palese Ragazzi spero che il pesce Non fosse utile per la loro Perché l'abbiamo perso Leggermente fastidioso Questo rumore Eh? Abbiamo rotto il gioco Sì ma avete rotto il gioco Ma noi avevamo la chiave Avevamo il pesce Avevamo tutto E adesso non abbiamo più niente Arri Arri Non stanno in piedi Sti cretini Ma dove sono andati Quei due Io non lo so Stiamo arrivando Stiamo arrivando State arrivando Possiamo venire verso di voi Così acceleriamo No 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 Stiamo venendo da voi Tienila tutto Tienila tutto No 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 Tienila tutto No 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 Ah la faccia È qui un binario Vieni qui e balla un lento con me E dimmi parole Never gonna let you down Never gonna run around Verda scelta il comodo Now we're gonna say goodbye Ok ok Abbiamo fatto il sesso Va bene perfetto Arrivederci No ma Lasci quella nostra chiave Oh arrivo Oh oh Oramai è il nostro Oh vabbè Che sta succedendo Prendi il tifoso del Napoli Prendi il tifoso del Napoli Sì arrivo Il tifoso del Napoli preso Ok Che stai facendo Bertra Fanculo alle guardie Pezzi di merda Oh Bertra Abbi un po' di rispetto Per le forze dell'ordine italiane Per cortesia Se no altrimenti Sai che cosa vuol dire Contravvenzione imminente O no Eh o no Ragazzi di qua c'è un altro Ti sparano Ti sparano C'è un cecchino Pariamoci con il napoletano Pariamoci con il napoletano Sta funzionando Napoli scudo Aperol Il famoso Napoli scudo Napoli scudo Aperol Allora signori Ce l'abbiamo fatta Sì sì Ho un'altra torretta Perfetto Let's go Ma le torrette Sì Fanno male Possono essere disattivate Con la card Ahia le gambe Le due Ah e per i pinguini Non ce l'hanno Però fico Fico Cosa sta succedendo Questa è una bellissima domanda Oh Oh c'è un cecchino C'è un cecchino Aspettate ci sono io Con il tifoso del Napoli Sì ma il tifoso del Napoli Sta funzionando Sta funzionando Come non detto Cretate sciocchi Allora ragazzi Io sto portando Un tifoso del Napoli Alla partita del Napoli Allora io credo Che questo tifoso del Napoli Però sia morto Ah ma perché spari me Meglior calciatore del Napoli Higuain Sempre Ma assolutamente Mani bassa Posso sostituire il mio Napoletano Con una pistola Sì sì Ne hai tre per la partita Hai tre sostituzioni Di Napoletane a partita Ti ringrazio No Non supprimete Dei poveri operai Dei poveri operai Era cile Era cile E cosa? No vabbè ho trovato un piccone con fortuna No non ci posso credere Aspetta che ti mostro Bellissimo Oh guardi 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 Oh laser Oh oh Picciatelo picciatelo Quanto mi ha laserato Wow incredibile È bellissimo Davvero bello Davvero bello Veramente molto bello Bellissimo Val Peccati questo Con i pennacchi E con le armi Io ho una chiave Oh aspettate un secondo Devo fare una gag Del bosco? Guardatemi ragazzi Guardatemi Sono uno studente universitario italiano Era cattiva? Eh no no Non fa nulla Va bene ragazzi L'avevo già fatto Da questa gag Non l'ho riciclata Non hai visto tu Totta Ha studiato tanto Sì poteva averla capito Tranquillo Stava studiando Per la nostra live Twitch Let's go Cosa? Il dincato fortissimo Ragazzi ma io credo Che la pistola Sia leggermente oppi In questo gioco Non so io ho una chiave Bella comunque questa chiave Ma alla fine Che cosa è servita questa chiave? Dobbiamo Per la Per la barca Oh ragazzi scusate Ma io mi sono appena reso conto Controllate se c'avete il portafoglio Perché Stiamo Siamo passati in me Non ho le tasche Ma non ho le tasche Sono un pinguino Tutto a posto quindi Eh sì Non detengo il conio Venite A posto a posto Nessun problema Allora Tutto a posto No mi si è incastrato il piede Venite venite C'è della loro Della loro Della loro Corri sedia Ma incredibile C'è della loro Oddio ma lei chi è Lei chi è Un grande pinguin Allora che cosa sta giù Ma quello è club penguin Ah Uso lui come scudo Aia Batonna Fa freddo nella neve scusata Ha funzionato? C'è un'altra grotta C'è un'altra grotta ragazzi E sta in silenzio Che cazzo stiamo finendo Secondo me tipo la barca era lì Oh ecco Ragazzi la barca era un metro Perché è impossibile che io devo portare la chiave per così tanto Eh secondo me pure Non lo so Eravamo vicino al mare Mare potrebbe essere un buon posto dove cercare una barca Mare profumo di mare Ma una volta io l'ho vista in un cantiere Oh so come aprire questa porta Fermi spostatevi Sparando al target davanti Wow chi l'avrebbe mai detto Io Camera di bellissima Wow sei stato bravissimo Bertra Complimenti Madonna high concept game questo comunque Aspetta ragazzi Optional find and see the peculiar penguin doll Ma che era quella che abbiamo visto prima La vado a prendere Ragazzi comunque io credo di essere avvantaggiato Io credo di essere avvantaggiato in questo gioco Perché gioco moltissimo a fortnite Anche totta Veramente Una volta si ora non più purtroppo Quando hai bei tempi d'oro Tempi che furono Ragazzi c'è altra gente però Asta la vista Asta la pasta Madonna è un'esecuzione questa È stato terribile Sembrava la fucilazione di Goya Bellissimo Ma qua stanno facendo un rituale satanico Wow Totta dove sei? Il mio preferito Prendi il pinguino Oh sta un botto di gente Sta un botto di gente Cacciate il bastone Cacciate il bastone Sono morto No Sto arrivando ragazzi Premete F ripetutamente per morire più velocemente Come si fa? Come si fa? Tutto Tutto Sto arrivando amici Grazie Mi avete resuscitato Come Gesù Io adesso brucio la chiave Come Gesù Io adesso brucio la chiave Come Gesù Come Gesù C'è che si sta dando fuoco vivo Posso? È una sauna È comoda Vieni anche tu Leo Vieni nella sauna Ok È molto caldo qui Questa torni da noi per favore A ridere perché siamo nudi Nella sauna Con shift ci vedi Ciao amici Guardate Ho un nuovo amico Au Au Hai rubato un bambino? Aia Sto morendo 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 Stomo No Nut Buonasera Nell'anima Se premete alt Se premete alt È molto Molto strana La visuale Poi ha fatto una pirouette Il bro Chat Volevo dirvi Volevo dirvi un attimo Parlo un attimo Solo con la chat Volevo dirvi Come c'è il boss Ma io stavo Mi stavo spammando È uno Dei Normali È uno sgherro Fate punto esclamativo Instagram Per seguire sedia Su Instagram Fatto io Non ho capito Gruzzi Non è la Fai punto esclamativo Instagram Per sedia Ok Punto esclamativo Punto esclamativo Oh qua c'è una roba Luccicosa Un mucchio di punto esclamativi Guardate Guardate Venite qua Dove sono io Guarda totta Cos'è Lo prendo Ma quello è Goku Vabbè fai tu allora Vaffa Cos'è il laser pointer Blueprint acquired Wow Wow Io credo che sia Io credo che sia Una ricetta Una ricetta Tipica di una città Partenopea No Aspetta Vieni Aiuto Che cosa Ma cosa Aiutatemi Oh no Sta succedendo di nuovo Sta succedendo di nuovo Aiuto Ti hai aiutato Ti sta aiutando Non sto Aiuto Provi spazio Sta funzionando Lo sto facendo Oh sono vivo Ok Ok raga Prima cosa Dovano fare È questa Tipica reazione Da avere Quando sei Bloccato Ma quando poi Riesci a Aia Mi avete visto ragazzi Per questa cosa Cosa no Volevo dirvi che il ghiaccio È scivoloso Fico Chi è che ha attaccato Il mio pinguino Ecco perché mi si sta Buggando Benvenuti Dove siete Ma dove siete Io sto Io sono attaccato Ah Tota sta trascendo Il mio pinguino Che ha attaccato A me che porto la chiave E ciò sta creando Un enorme bug Fortissimo Posso dire una cosa Che io non vedo Niente di tutto questo Stiamo arrivando Oh Dio Eccomi Ah ok Mi è svenuto il mouse Ma che cosa sta succedendo Attaccate la chiave Vieni Venite ragazzi Aspetta Tota Ferma Ferma Qualcuno si attacca la chiave Prenda un Buonasera Prenda una persona Ok Prenda uno degli scheri Attaccate la chiave Benvenuti Allora Come si fa Come si fa Si unisce qua Perfetto Ok ce l'ho Vai Ci siamo Ci siamo Tenetela aprile Tenetela Tenetela Che cosa sta Che Reggetevi fino all'ultimo Amici Ci siete? Ok Io ci sono Ah io mi sto facendo Trascinare Io sono immobile Ok Questo penso sia un modo Più veloce per uscire Dalla grotta Ragazzi Sì assolutamente Perfetto Perfetto Questa è la mia idea Di tipica serata De giovedì sera Tipica ragazza italiana Io che sono unito All'anno di Tota Chi è che è unito al mio? Io Ah ok ok Quindi poi Sedia è unito al tuo? Sedia è unito al mio Come dice Brahe Io Sì Ok basta Mi sono annoiato Va bene Vi faccio luce La femmina non prova più emozioni Per questa cosa Andiamo Faccio luce Perfetto Perfetto Very nice Very nice Chris Senti ma come funziona Il veterano tramite sub Se arrivi a 12 mesi Prendi il veterano Mesi ufficiali di fila Teoricamente Mi piacciono i pinguini Quindi mi piace questa live Molto bene Molto bene Penguin trip Senti a dove sono gli altri? Di qua? Io non lo so bro Ah basta E qui c'è un Bertra Allora Io Ho una buona notizia per voi Totta Tu stai perdendo la parte più divertente del gioco Io non sento niente Non ho capito Che siete ragazzi? Eh? Premi shift Totta Ci trovi Signori Questo è l'effetto della droga Negli adolescenti Volevo dirvi che Se volete Provare uno spinello Forse non è il caso Senti e lo vende Al parco No Ma come no? T'ho visto che lo vende i miei bambini No 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 Sono Sono Ero un albero in realtà Eh? Ero un albero Chiave Come diceva Totta Bastai la mia mazza dentro di te Venite Ho trattato la barca ragazzi Io non credo di sentire più Eh? Vabbè ma Ho trattato la barca Vabbè ma se sei un adolescente è normale che non senti nulla È vero Cosa? No sentono però non ascoltano Sì io sto sempre sorpreso Quando penso che sei da 19 anni Non dovrà 16 12 e mezzo Io veramente sono nata nel 2016 E ti ho detto nel 98 E che 18 li compie ad agosto Wow Totta Come sai di saperla? Senti ma si sa la tua età o è ancora nascosta? Che cap? No 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 Vuoi sapere l'età del creatore? No 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 Si sa Sì l'età del creatore Sì l'età del creatore No Come è fatto a cadere? Sono dentro No Guarda che siamo caduti tutti Perché siamo caduti? Barca La barca due gambe ci ha traditi Non ho stato io Non ho stato io Penguin Successo Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Tu stai giù Stai giù Ok Abbiamo vinto Davos fucking easy Che bel gioco Oh ma se siamo fatti i sordi Ma è incredibile Tra l'altro Accurasi 100% Cioè io tutti i colpi che ho dato Li ho dati giusti Fighissimo Ma non è vero Ma anch'io Ed è una bugia Beh tra Shut up Ragazzi dice anche che puoi farla stealth Senza kill Io ho fatto 500 soldi di stealth bonus E ho ucciso ogni cosa Io pure ho fatto 500 di stealth bonus Volevo dirvi Facile Veramente molto facile Dobbiamo premere Go to Lobby immagino Sì fate Go to Lobby Sì se riuscite così si toglie questa musica idiota Tu Un tu tu Silenzio Compriamo Weapon store Madonna adesso compri tutto Wow Ah ora è vero Ora possiamo comprare ogni cosa sulla faccia Oddio non abbiamo così tanti soldi In realtà non possiamo comprare un cazzo Allora io ho 1250 E sinceramente Le mie infradito si sono rotte Quindi se trovate Le infradito in sconto No vabbè ma Noi abbiamo laser pointer Che non possiamo fare Però perché siamo Ah ma servono le blueprint Esatto Però noi abbiamo trovato il blueprint Della roba Cos'era? Sì del puntatore laser Però sai Che minchia è il puntatore laser? Ma fatti i cazzi Oh non lo so Negli items Negli items Exploding fish No l'exploding fish Laser pointer new Ah e lo possiamo fare unlock Fico Costa 500 Puttana zeeva Va bene lo prendo No vabbè li rendi ciechi Ok godo Comprato Sì 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 Possiamo anche comprare i vestiti Possiamo comprare i vestiti Così finalmente mi riconosco Io prendo Io prendo quello di Penguin Io un pollo Penguin club Penguin club Io chicken Io prenderò Oddio È stranissimo questo Ce ne sono un botto raga Ce ne sono un botto Fin troppi per un gioco del genere Ma va bene così C'è il monkey queen Bellissimo Io mi prendo una felpa viola Wow Così potete vedere che sono io Pazzesco Totta Sì dai in che colore ti identifichi Io mi identifico Sì ma in che colore è Marrone Ok Perché Io mi prendo un bikini viola Così miei conoscete Io sto guardando E ci sono davvero Dei Delle robe Molto Poco È una coda da furri Cosa Scusa Mi fa molto ridere Questa cosa È una coda da furri La coda da furri E dove Dove la metti la coda Eh Totta Cioè scusa chiedo ma Wow Bertra voleva insinuare Che infilassi qualcosa Nell'ano Ha appena detto che lo fa Quindi me la mettiamo Ok io ho comprato i bikini Per mille euro Mille euro Mille euro Però è un bel bikini Sinceramente Ma no ma io ho sbloccato Il laser pointer Poi non l'ho comprato Sono un cretino E ho sprecato Tutti i miei soldi E è proprio uno sciocco Andiamo a fare Un'altra missione Arrivo arrivo Sto guardando ancora I miei vestiti Grazie mille Ma grazie mille Massimo Grazie mille bro Per l'abolamento Benvenuto in live Grazie mille bro Un bacione Quanto costa il gioco 13 euro 12 e 50 Tipo una scemenza Pasquale glory Buonasera Buonasera Benvenuto in live Benvenuto in live Sedia Oserei dire godopoli Assolutamente sì Sapresti fare Un calabrese Super Super saranno Ci sono un sacco Di cappellini Costano anche poco Allora ragazzi Io sono molto indeciso Cosa Cosa comprare Perché ci sono così tante cose Il bikini devo dire Non è male No il bikini Già ce l'ho io Non mi copiare Per favore No 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 Però insomma Va allargata raga Poi c'è Un Una collana Proprio da Italiano medio Degli anni 20 In America Eh scusa In che senso Cosa ci vuoi Stavo solo insinuando Che avessero Particolari gusti Particolari gusti L'outfit ufficiale No mi servono 2000 euro Per comprarlo 2000 No era bellissimo Allora io devo cercare Gabs auguri Però non mi insultare Madonna Gabs Vaffanculo E buon compleanno Wow Che cosa sta succedendo Perché avete mandato A quel paese Perché Gabs ha scritto Che vi aderci Lo stai dicendo I diciannoesimo Comprendo A guardare Dei falliti Pezzo di merda Oddio Ha ragione No No Sto scherzando Sto scherzando Parlavo di me Hai ragione Ok ragazzi Io ho fatto l'outfit Iniziamo Io sono ready C'è un cappello Che si chiama cappello E c'è scritto Cappello E' bellissimo Veramente molto molto bello Veramente molto molto bello C'è neanche un altro cinese Però vorrei evitare Di fare battute razziste Quindi Non ho detto niente Non ho detto niente Assolutamente Di plan heist Andiamo a Playa del Sol Ma non c'è niente Che ricordi un poliziotto Buono e poliziotto cattivo No no C'è la military base Io ragazzi posso andare al volontario dell'acqua Military 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 No Playa Dai Playa 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 Allora Dobbiamo scegliere Chatta Aiutatemi un attimo Perché io vorrei fare Roleplay di uno di queste cose Che uscirà Fedora Fico No Fedora no No E' tipo navigare Al Fedora Sono cattivi Ok no Come non detto Credo che Prenderò C'è il sombrero Ma non posso prenderlo No E' appropriazione culturale Non puoi Ah scusa Ok scusatemi Appropriazione culturale Però posso prendere la skin Che non è appropriazione culturale Non lo so Sai Credo che prenderò Credo che prenderò Ragazzi Streamer messicano Uno streamer messicano Che lo chiamiamo al volo E gli chiediamo Credo che prenderò Tearless Tearless raptor No Lars messicano Lars messicano Ah Ok Non sapevo Che streamer messicano Perché? Eh perché Sedia vuole prendersi un cappello Ma io ho detto che è appropriazione culturale Il sombrero E però Non si può prendere Perché costa 2000 euro Lo volevo prendere pure io Oh Questa cosa è molto triste Cos'era questo? Va bene Scegli il cappello Stiamo aspettando solo te Non avere fretta Tranquilla Tranquilla Non avere fretta Cioè è un bellissimo quadratino rosso Che blocca la live a tutti Però va bene Va bene Vai scegli il tuo cappello Sto scegliendo il colore Fico Non posso sceglierlo In che colore ti identifichi Sadia? Io adesso sono un biscotto Un biscotto gocciole pavesi In questo momento Ma voi siete tutti diversi È solo Oh C'è un nero Anch'io Anche lui Dove hai tenuto fuori una gocciola? Tutto bene Continua Eh? Avevi una gocciola pronta Sei fantastico Sei fantastico No perché lui predicta Tutte le battute degli streamer Devi sapere questa cosa Beh questa cosa è fantastica Che carini che siamo Wow Io sono Siamo molto teneri Wow Let's go Perché adesso sembra che il gioco è più bello? Mi vedete? Io sono un aristocrat Allora Ho un costo Io sono Io sono un pulcino Bertra E Shaquille O'Neal Perfetto Chi è Bertra? Sono quello col Ah Allora Cappello verde Chi sei? Come hai fatto Leo? Non lo so Cappello verde Chi sei? Sono io Ok Tigre Gocciola Chi sei? Io Sono io Gocciola zebrata Che mi farà vincere un anno di gocciole gratis Ciao Sono proprio io E quindi Tu No va bene Tu fai troppo ridere Bellissimo Io sono super aristocrat Comunque una cosa che c'era da piccolo Io avevo paura di trovare la gocciola zebrata e mangiarla Ma in realtà la gocciola zebrata era fatta di carta È di cartone Sì Una delle peggiori Oh Aliexpress Andiamo 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 Oh 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 cattivoni Ma forse non sono cattivi Sì Raga un fucile a pompa Oh bella pompa la voglio io Ragazzi chi mi trova gli regalo un pacco di gocciole mabies Chi mi trova e mi offre un boccaciccio è un conto Ti ho trovato ti vedo da qua con shift Mi ha trovato prima totta Io Oddio Gozzola totta quindi Totta Sì Ma sono un casino Sparategli 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 Sparagli Piero Sparagli ora E dopo un colpo Sparagli ancora Fino a che tu Non lo vedrai Ehi Ehi Berto 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 Non è il momento Perché Oh qua c'è C'è dell'ammo gratis Ragazzi 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 C'è la cosa silenziosa C'è E mentre gli usi Quella premura L'asco L'altro ti vede Buonasera doppiatore Ciao bello Ciao anche a Andy Benvenuto in chat Scusate non mi sento molto bene La gocciola a due gambe Ehi amici ci stanno per Ti hanno raidato? No di qua ci sono i cattivi Dove sono i cattivi? Davanti a me Ponk Ragazzi usiamo un approccio stealth L'hai triggerato Don't lock Cosa gli hai detto? Che Kingdom Mars non è un bel gioco? Wow Kingdom Mars ma schifo Quanto Jojo? Aia Grave Wow Chat sapete cosa fare? Andate a raidare gli amichetti E Provatemi Ditegli che Non sono Provatemi Ragazzi Temo di essermi Buggato del tutto Non posso più uscire Non mi troverà mai nessuno Posso provare anch'io? Ragazzi Non posso uscire Ragazzi Temo di essermi Buggato del tutto Non posso uscire No Ragazzi Non riesco più uscire da qua Ragazzi Credo di essermi Buggato del tutto Ah no Sono uscito No ragazzi Non riesco veramente a uscire da qua Raga Mi si è infilato il braccio dentro Raga Sono buggatissima Raga Totta Totta Chiamo Sono morta Chiamo il 1515 Come sei morta? Hai l'ho uccisa io O magari riesco a tirare da su Notnut Non posso più uscire da qua Allora Totta Slider verso il muro Slider verso il muro Raga Mi sono buggato qui dentro Salvatemi Non posso uscire Rai uscite di buggarvi Ok sono vivo C'è un bug Ma poi Riuscidetemi raga Riuscidetemi Mi respawno all'inizio Totta Va bene La bizzarre avventura dei pinguini Esattamente quello che Oh Ok Cosa sta accadendo? Comunque Madagascar 4 Me lo ricordavo diverso Madonna Ma io sono creepissimo Creepissimo Che guardami in faccia Guardami in faccia Si è bruttissimo Deve essere onestito Il creepy Ma stiamo parlando Della skin o del creatore? Ehi Ciao amici Dov'è Totta? Dov'è Totta? Adesso siamo Bertra Dov'è Bertra? È qua Totta è qua Chi è Bertra? Ah non è Bertra quello Adesso lo chiede Bertra Dov'è Bertra? Oh mio Dio Un parcheggiatore Un parcheggiatore Due euro a piacere Due euro a piacere Vabbè sconto studenti Sconto studenti Cosa sconto studenti? C'è davvero? Non so Sono di trento Non resistono i parcheggiatori Bertra mi è compenetrata Non vi siete ancora evoluti? Mi piace compenetrarti Non vi siete ancora evoluti Ai parcheggiatori abusivi? Sì? Dicci Totta Dobbiamo andare all'hotel noi Esatto Quale hotel? Di qua? Oh so per un 34 di Totta Scusatemi No Chi ha ucciso il parcheggiatore? Dovevo parcheggiare American Sniper Sono mille papaveri rossi Grossi Hai due euro a piacere Sentite Fategli dire le ultime Fategli dire le ultime parole Dobbiamo trovare anche Le mutande di chef Pecca di questo Spogliati Piero Spogliati adesso Vieni con me Facciamo del sesso Ragazzi Siamo di nuovo andati Oh 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 Vedo una scala Venite ragazzi C'è della lore Ma è possibile che non riusciamo A trovare l'orientamento Di questo gioco Bellissimo Mi piace come Totta Stava dicendo Ragazzi ci siamo distratti troppo Abbiamo perso Oh c'è una scala C'è una scala Sì siamo veramente distratta Sì No no C'è della lore per andare Dove dobbiamo andare Non penso che sia Ragazzi possiamo Possiamo definire lore Giusto per Per la chat Perché Praticamente La scala La scala è lore Qualsiasi Oh Qualsiasi cosa che possa sottointendere Un minimo avanzamento nel gioco Lore Ok Ti ringrazio Totta Non è vero Lore vuol dire che è inerente alla storia Porco Bertra voleva Voleva dirlo Voleva dirlo Mille pastelli rossi Mille pastelli rossi Let's go Ragazzi è parkour Non è lore Sì è difficilissimo Sto parkour Non è vero L'importante Non è vero Allora vedo quello che può essere l'hotel Davanti a me Scusami Ragazzi io ho finito il parkour Arrivo Oh no 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 Ok E non c'è niente in cima Non c'è nulla Madonna stavo per cascare di sotto Sarai diventato Pazzo Ragazzi non c'è Non c'è nient'altro Sul set C'è il parkour Finisce E poi In che senso Arrivi in cima E c'è una piana Dai no Te lo giuro Non c'è niente Io infatti non sto salendo Che devo fare salgo Scendete voi No sali Ah no si sale da questa Ok ancora Sì c'è un'intera zona Sto arrivando 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 Voi non avete apprezzato la piana La piana del piave Aspettiamo sedia Comunque è terribile Sopprimi Sopprimi la gente In un modo terrificante In questo gioco Mi sento quasi in colpo Ragazzi aspettiamo sedia Io sto aspettando Mi sono le scimmie Mi date un secondo Sto arrivando Sto arrivando Oh buonasera 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 Horizon Ciao Buonanotte Questa nuova zona Zona scimmie Benvenuti nel mio nuovo video Le scimmie sparano Le scimmie sparano Come le scimmie sparano Hanno le banane Hanno le banane Uccide il bambino Uccide il bambino Uccide il bambino Ok perfetto Comunque venite ragazzi Faccio vedere Quello che penso Fosse Sia l'hotel La lor Stavi dicendo Scusami Hai detto l'hotel La lor Venite Guardate la lor La lor Qualcuno vuole Delle banane Basta Queste banane di merda Sedia Sedia Io ho qualcuno Che vorrebbe Vieni qua Cosa? Dov'è? Oh È lui proprio Guardate questo Vedete la lor Magnati Ok Ma puoi picchiare Con le banane? No Era solo Una mia recita No questo è troppo difficile Dai ragazzi Non riesco a portare Tutte le mie banane Ma io come No in realtà è facile Come faccio a vendere? Perché anche se Vai un minimo giù Non succede nulla Va bene Sì sì Non è successo niente Ma che cazzo? Va tutto bene Io ragazzi sono sotto Com'è successo Leo? No Leo Sono caduto Sono caduto anch'io No non è vero Ti godo Ok Ti ho lanciato Scusa non volevo Andate senza di me Va bene Io resterò Arriviamo Perfetto No 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 Andiamo senza Andiamo senza Andiamo senza Wow Sedia Vuoi veramente Far capire Quanto Leo Sia il tuo Amichetto preferito Posso dirvi una cosa? Concentratevi sui vostri piedini Quando salite le scale Perché si muovono velocissimo Io ho aspettato sedia Ho detto agli altri Fermiamoci Quando ho fatto il parkour Tutto quanto Ho fatto il gioco Con la banana La sci Ok Ti difenderò Leo No 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 Ho ucciso sedia No ti salvo Ti sa Buttalo giù Buttalo giù Sta andando All'esterno Si sta facendo Tutti gli scalini Ma cosa sta succedendo? Ma io sono Sono viva Sono viva Sono viva Sono viva Gocciole pavesi Partire con più gusto Te la cazzo Te la ho visto Oddio Sedia ti ho mandato Una roba su Instagram Ok grazie Ve la vedo Ragazzi No Ragazzi Ok Ora faccio lo glide Come su GTA Bertra Bertra sei un pezzo Di merda Ti odio Non salite Vi prego Non salite Non ci posso credere Questo è per il blueprint Del hang glider Tanto sedia Non sarebbe arrivato Tranquilla Comunque Vedo l'hotel Da qua sopra Ragazzi Sei un pezzo Guarda l'hotel Bertra Leo ti ricordi Quando io Stavo insinuando Non ci parlo più Con te Ne può restare Solo uno Su questa collina Dotta Dove siete Adesso Bertra Restami Prima che slide Via Ma quindi Lì sopra Non c'era neanche La loro Restami No ti prego Che sono riporto Dall'inizio Bertra 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 Lunga vita Re Bertra Sto facendo Le scale Da morta Bertra Sto facendo Le scale Da morta Finalmente Ti seguo anche qui Ciao Emanuele Ciao anche a Cotoletta98 Gamer Game tv Buonasera E anche Abba fine Ce l'avate voi Ciao belli Benvenuti in live Benvenuti in live Io ora Finisco questo gioco Per i fatti miei Perché voi non siete simpatici Io ti vorrei ricordare Che Riccardo Bertrando Mi ha tirato Un pugno Sulla nuca E mi ha fatto cadere Dalla collina Ah perché bro Sai a me cosa mi ha appena fatto Sentiamo Mi ha dato un bacio No cosa Cringe L'ha fatta svenire Poi gli ha dato un bacio Cioè veramente hai dato Sì è quello che faccio sempre in discoteca Hai dato un bacio a una femmina Ragazzi sono in cima Possiamo Posso sapere dove siete Che cosa fare Beh io sto andando all'hotel Vi se nessuno mi ha cagato Mentre cerco di far vedere No 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 Col cavolo Sei un pezzo di merda Dove è sedia Mi piace questa profonda anarchia No no Io vedo sedia e Bertra Ma non vedo totta Solo te No ti sei suicidato Non mi avrai mai pezzo di merda Ti stavo tirando su No 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 Non mi avrai mai Non potrai mai dire che mi hai salvato Non avrò mai questo debito con te Eh allora mi dovresti vedere Guardami Sei un pezzo di merda No no Ah ok l'hotel è laggiù Ok ok dall'altra parte arrivo Mi vedi Ho giocato al League of Legends Premi F Premi F Flash Flash Ne ho fa il drago Bertra Andiamo Dimmi Andiamo all'hotel Ok Io non ho bisogno Allora Bidi 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 Ok Non so dove siano gli altri E devi premere shift Di solito li vedi Ah li vedo Fichissimo Guardate è incredibile Che l'abbiamo messo Su questo gioco di merda E non su grounded La possibilità Di vedere dove sono i tuoi compagni Oddio 40 euro A 10 Su grounded Che utilità può avere No guarda Non lo so Non ho idea Sicuramente Molta di meno Che su questo gioco Oh no C'è un altro posto Dove salire ragazzi Dove siete No Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Grazie Emanuele Dovendo gentilissimo Un bacione Un bacione Ma ciao anche a Nevermind Mi avete sentito Mentre salutavo Let's go Sì Mi chiedo scusa E ora ci dobbiamo uccidere Salutiamo anche noi Nevermind Finita la live Ciao Nevermind Buonasera Dove siete Raga Allora no raga Dovete tipo venire qui Sto venendo tranquilla No raga perché Ho tre sicari Davanti a me Non me la sento di Io non capisco Dov'è totta Azzaldare Previ shift Mi vedi Ah sei in alto Ecco perché non ti vedevo C'è altri pezzi di parkour Ma come c'è un altro pezzo di Oh Mi sono incazzato la mano Io mi sono incazzato la mano Bertra 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 No vabbè ma è la famosa Mazzate crew Bertra Bertra ho bisogno di una mano Bertra la mia mano sta facendo Una cosa strana Totta ragazzi vi rendete conto Che questo è lo spawn Questo è Chi è spawn Quello degli iNub Sì scusano Lo spawn Assolutamente sì C'è la barca da qui Io ho un problema Con la mano Bertra Bertra No quella è l'altra barca Che è fuori dall'hotel La barca dove siamo arrivati È andata via Ah ok Questa è la barca Dove dobbiamo portare Lo chef panguino Che cosa sta succedendo ragazzi Ma dov'è sedia? Ho un problema Ho un problema fisico Nella testa funziona a metà Ma dov'è sedia? No Ho la mano che fa Bini 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 Mi prego guardate la mia stream Oh si è sbagato Incredibile Bastava solo per Perseverare Va bene Ragazzi Clippate No Leo No Leo No Leo 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 no Ce la possiamo fare? Leo no No Siamo caduti insieme Arrivando Arrivando Bertra I'm stuck Leo sei attaccato a me Vero? Assolutamente alle tue palle Oh si Come si sale? Destra o sinistra? No Leo no Cosa vuol dire Destra o sinistra? Dove dovevo andare? Quei da noi Sì grazie Ero veramente gentilissimo Veramente no Davvero Davvero Ma dov'è sedia? Madonna Eh sono Bertra Ma che cosa sta succedendo? Ma cosa sta succedendo? Oddio Che c'è tot? Che c'è? Il mio gioco è bellissimo In questo momento No No Bertra Mi ti richiarrate Bertra Ragazzi Sto vedendo Io sto vedendo cose ragazzi Sto vivendo esperienze Io sto vedendo Io sto vedendo Oddio No totta Cosa? Mi hai cataffottuto giù Grazie Ti tira Grazie Ciao Anch'io Buonasera Benvenuta in live Tutto a posto? Tutto Aiutami sedia Aiutami sedia Non sta bene No Ragazzi ma dove siete? Io non vi vedo Nel pavimento Leo Leo Sono lì il pavimento Leo Pensa alle gocce A partire con più gusto Libera il pavimento Sono lì però Perché allora io ho ancora dei problemi Non ricominciare Non sono più il pavimento Non riesco più a staccarmi da te adesso Leonardo Ragazzi Qui c'è un cattivo Venite Uccidiamolo Aspetta Ok Stai doveva un ictus Tutto era traumatizzata Aia Chiedo scusa Io stavo sparando in una direzione È qui O sono due Il capodanno Bertra sei pronto a fare 100% di accurasi nella schermata finale? Assolutamente sì Il capodanno ci insegna che i proiettili che vanno in aria non torneranno mai giù Davvero? Eh sì Se tu sparai in un proiettili in aria non riatterra Sedia Oh che c'è madonna Sempre addio animale Usatela Usatela Boom Ah mi ha accettato Per com'ero E questo mi ha fatto molto piacere Davvero? Bellissimo Guardate che comunque la fionda Ma io non ho ancora usato il laser pointer L'hai acquisito Wow Ah la mia testa Non mi sparare in faccia Oh oh Cos'ha l'accetta? Ah non possiamo Guardate dove gli sto No mi sono incastrato nel letto Porca Ok sono vivo Guardate dove gli sto puntando Nel pipo Pipo Leo ma come Ragazzi andate là Andate là Andate là Ah 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 Il ferro il ferro il ferro Ok Posso farvi un problema di matematica Come se fosse un professore Con un puntatore laser Che si sente molto figlio Guardate vorrete vedermi Vai vai Assolutamente Allora Leo Qui abbiamo dodici Barili Se io ne tolgo Professore sono otto Raga aiuto No raga Non guardatevi Salitevi Prego salitevi Professore sono otto i barili Lei è stupido Quattro persone cattive Il quale Leonardo Leonardo Professore mi ha appena ucciso Buona serata È stato bello Oh luce Professore anche se sono morto Sono in piedi Com'è possibile Leo Non lo so Com'è possibile Sono come barba bianca in One Piece Sono morto in piedi Fico Leo Spoiler Posso essere arrestato Chi è morto barba bianca Avevo sentito Barba bianca Ace è morto no Ventura 15 anni fa Quindi penso che la gente Possa anche superarla La cosa dicendo Posso andare Oh no Totta È stata colpa mia È stata colpa mia È stata colpa mia Non è per niente a posto Non è per niente a posto Ah ah Mi fezzano Ah mi hanno fezzato Non ci posso cre... Mi hanno fezzato di nuovo Ragazzi è proprio come una tipica giornata a Milano questa Un accoltellamento ogni quattro minuti Ok Quarto giaro Quarto giaro Questa cosa vera lì C'è della lor C'è della lor Ok Sto facendo luce Cos'è? Sto facendo luce È tipo un blocco da puzzle È tipo un blocco da puzzle? Chiamatemi gocciole pavesi Non lo so Oh oh Lo detiene Lo detiene Lo detiene Andiamo Andiamo Ok Fico Venite qua a destra Io mi sto facendo luce Però È un compito davvero arduo Grazie Grazie Forze dell'ordine italiana È sempre sul pezzo La playa del sol Bonk L'ho gambizzato Wow Bertro sta ridendo Delle povere vittime Bonk Fezzato Vai se mi attaccati Ma è fortissima la scivolata Sono morto Aiuto Sono morto Aiuto Totta Raga mi stanno fezzando Stanno fezzando il mio caravere Sto arrivando Sto arrivando Eccomi Oh oh Dove è andato il pezzo? Non c'è più il pezzo Aiuto 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 Sto slittando Devo aiutarti? Sì Sto slittando via Aiuto Ma perché me? Perché me? Perché oramai sono una macchina da guerra Non riesco a fermarmi Totta vieni qua Leo? Leo? Un altro pezzo Leo prendi questa fetta di formaggio Dov'è il formaggio? Oh sì sì Fammelo usare Bellissimo formaggio Oh posso all'usare anch'io? Bisogna metterli qua ai pezzi Dove? Dove sono io? Che cosa sta succedendo? Andiamo a dare il formaggio a Bertra Ma quindi ne manca uno Quindi ne manca uno Posso introdurvi un nuovo comando molto divertente Tirare i pugni con Q ed E quando non avete armi Mi spiace ma è quello che facevo all'inizio per dire sono un pollo Ok chiedo scusa va bene Importante è che lo sappiamo Ci manca Senti qua Guardami 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 Wow hai fatto il cartone animato di sapere dove può stare l'ultimo blocco ah si ho visto no sopra c'è la scala wow ma no siamo a Milano guarda che la scala c'è in ogni città ti ringrazio per aver lasciato un secondo questo è successo il microfono di sedia ogni tanto la sedia esplode il microfono oh dio ti ho attaccato in un modo estremamente comico me ne vado io questo è il mio nuovo paese ragazzi ragazzi sei per terra totta oddio io sto morendo è stata la cosa più bella che abbiamo visto la playa del sol comincia la festa la playa del sol totta vuoi una mano? la balla si vuole scendere raga ma no ma che paura cosa sta succedendo? ti ho visto lanciarti ah ragazzi tutto questo era per un blueprint ah no però è surstromming surstromming non è quella cosa di svedese dei pesci fermentata e qui dove cazzo sta? è il pesce dobbiamo andare all'hotel noi ancora l'hotel della playa ma se fosse questo? ma basta questo è l'abbandonato? i guerrieri di ninja warrior io c'era questo punto interrogativo incredibile leo e beh che secondo te è un castello abbandonato? abbandonato? il circuito di ninja warrior è uno dei più pericolosi tra i ninja warrior per fare il percorso di ninja warrior devi realizzare un altro allenamento tutto bene? ho bisogno di dare una mano? è un po' tardi Bert ragazzi si? se scendete giù dove sono io cioè la cosa che abbiamo fatto all'inizio che è il teletrasporto che magari non serviva oh ma sai che potresti avere ragione? secondo me il teletila ahia e quindi dobbiamo scendere giù al guardatemi mi vedete mi vedete vai via sedia ti odio sto arrivando pezzi di merda credo di sì oh oh che cosa è successo ho premuto troppi tasti io mi son buttato su sono al teletrascorso posso nuttare? nutt 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 no ma siamo ora siamo al villaggio dei pirati eh ma penso che prima è da dove eravamo ecco magari c'è l'hotel qua vicino è la giungla non ne avevamo già uccisi qua i frasi però siamo andati a sinistra ma venite di qua raga ma buonasera Sebi ragazzi venite su Twitch però perché questo mi spara bello inizio al villaggio vai a destra c'è una strada vedete non sembrava un ricroll dice che da questa c'è l'hotel non so l'unico posto che non abbiamo visto forse sì forse sembrava un hotel io credo che questo sia il miglior modo di viaggiare cioè spiaccicarsi la faccia per terra e rotolare fino alla destinazione condivisibile è una baita è una baita pirata è una baita pirata si non ruberesti mai un'auto questa è la città si può prendere? no decisamente no va bene andrò con le mie armi più potenti le mie braccia fluttuanti però sapete cosa sto pensando? che magari in questa zona qui ci può essere un'auto no in realtà sono di alcuni giochi non sempre per esempio ieri non abbiamo fatto live su tiktok sedia c'è sedia c'è sedia c'è sedia c'è wow ragazzi mi sto sbellicando del ridere era un meme di tiktok fammi una poterosa sigona non hai capito? non hai capito? era un meme di tiktok ma ve la conoscete quella nutrizione che fa? no no veramente? qua potete vedere la fine del sandbox ma se ci baciassimo alla fine del sandbox madonna no no il sandbox il sandbox no no ragazzi no ragazzi ragazzi sono del sandbox no ciao rai come stai? non si può più salire totta non si può più salire io 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 e forse possiamo circunnavigare l'isola circunnavigare l'africa io e bertrandiamo andiamo a giocare a penguin ice te lo giuro lo faccio per te lo faccio per te lo faccio per te vai lo spawn vai lo spawn lo faccio per te finalmente le munizioni qua c'è un posto vieni conosco un posto che mi piace si chiama un posto credo di aver visto un paio di amichetti ah siamo all'inizio all'inizio? qui c'è un bambino un bambino un bambino con una mazzetta guarda ma è un boss abbiamo trovato un boss aiuto ma perché i pinguini di notte ma più male? oh my everybody was Kung Fu Fighting leo vieni qui ma è po' ma è po' di 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 quel Kung Fu Panda ma vabbè po' darmeron però è un pinguino ma vabbè Kung Fu Panda magic in the summer grazie per la leo leo mi serve una colonna sonora epica per favore veloce veloce ventole bicchieri sono lì da ieri e la spesa poi ti aiuto vai vai ancora 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 miu 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 ha funzionato leo grande una blueprint non porta su un'isola diversa scuola portano una parte all'altra ho visto una cosa io direi angry fit più bella del mondo io sono depredito delle casette carine guarda leo vieni abbiamo abbandonato noi abbiamo abbandonato i maschietti sei l'altra tra ragazze ma basta tu sei tra gli uomini non è vero sì no però aspetta comedy allora di qua ci siamo passati però dobbiamo continuare dopo andare dritto dopo questo posso arrivare alla destinazione la destinazione ragazzi riprendete il teletrasporto se non l'avete ancora preso sono gli uomini ok va bene ok molto figo veramente molto figo shosh vedo c'è un signore con una pistola io ho visto un cadavere ragazzi comunque io vorrei dirvi che siamo dove l'hotel abbraccio oddio ci sono i tizi io non mi vogliono fezzare abbraccio scusatemi ma dove siete abbraccio dove siete finito il posto totta vuoi venire ad abbracciarlo anche te hai abbandonato sedia mi avete lasciato ma sedia era dietro di me ma non è vero ma si eravamo insieme lì sopra ho capito ma ma avete preso qualche teletrasporto per caso leo ma che cazzo bertra vai recuperare sedia no sei tu che l'ha lasciato indietro prendi il teletrasporto all'inizio dalla barca di via allora che devi prendere il teletrasporto eh sì che me l'ha ucciso ok questo ha tutto molto più senso non dovevo ci stavamo abbracciando ok perfetto no 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 non è il caso sedia un cadavere ritrovato nel tevere addio amore mio torna all'oceano noi andiamo all'hotel invece l'hotel di padova io non ti parlo più totta hai ucciso era l'amore della mia vita eravamo gli abbracciati tranquilli arrivate con una pistola più 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 è vero ho effettivamente fatto più 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 sedia un bambino di tre anni quando i genitori gli dicevano addio corretto sto arrivando sto arrivando vi ho ritrovato finalmente pensavate di avermi abbandonato no 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 io ti prego no ti supplico no vabbè farò il prossimo sticker con la sedia due gamberi perché mi fa ridere questa cacata che hai detto beccati questo beccati grazie Aspetta, non uccidete il prossimo, per favore, per favore, non lo uccidete Vince Kingo, grazie mille per l'abbonamento, buonasera a te, ciao, bellissimo Grazie dell'abbonamento, bro Cosa sta succedendo? Palma di Mallorca Palma di Mallorca? Allora, penso che sia qua su, eh Ok, ok Sono qua in pace Sono qua in pace Sedia, i barilli sono esplosivi Ma si è appena buttato giù? Mi sa, sì, sì Ok, sono troppo, allora, uno alla volta C'è qualcuno qua, c'è qualcuno qua, guarda Leo È qua davanti? Ok, ok, la risolvo io, la risolvo io, la risolvo io, tranquillo, tranquillo, tranquillo Tranquillo Leo? Come l'hai risolto esattamente, scusa? Non penso sia vivo, Leo Chi è che ha sparato al barile? Nessuno È possibile che io abbia ucciso qualcuno a pugni E che non ne sia proprio fiero Aspetta, aspetta Non li uccidere tutti Non li uccidere tutti Ma perché un problema? Lui, lui C'è un problema con le piante Missione pinguine No, sono troppo più Sono troppo più Sono troppo più Siamo facendo America, sniper e user Io ho un problema con le altezze Porca troia Father, mother Mother, father Ma puoi dirlo forte, Samir Io, Samir Io non dormire da una settimana, quattro ore e sei minuti Come mai? Sono incassato sotto un albero Non uccidere lo sedia Nooo Eh ma tu lo dici mentre lo stai picchiando Pure tu Eh ma lo dovevo sopprimere, non uccidere Ah ok, scusa Ok ragazzi c'è un amico Un amico? Un amico, Leo No C'è un altro che mi sta sparando Uccidi l'altro Eh io ho finito le munizioni purtroppo Sta usando il mio amico come scudo Leo? Ti difendo io, Leo No Uccidi quell'altro Roberto veloce mi sta uccidendo Arrivo Grazie A posto Con questo invece siamo Con questo siamo amici Guardate che bello che è Chi è amico di chi? Dove ti vedo? Qua sotto in spiaggia Dove? Ciao Guarda che carino che è Oh ma ho visto una cosa Io noi siamo amici Ma perché è così Ma che cosa sta accadendo? Cosa sta credendo? Posso dirmi a voi? No l'hai inciso Quello ucciso L'hai ucciso L'ho solo toccato L'hai ucciso Sedia No L'hai ucciso il mio amico No no Non è vero Non è vero Guarda guarda Te lo giuro Guarda guarda è tornato in vita Vedi? Vedi vedi? Ne porto due Come ho detto a mia madre Mettere dei fili al gatto E muoverlo con dei Con un pezzo di legno Non lo rende di nuovo vivo Annaggia Quel piccolo delay Che hai fatto con la frase Ha rovinato la battuta Cos'è questo qua? Ah questo serve Bisogna farlo esplodere C'è un barile Oh Ci sono Ahia Fuck Stavo giusto dicendo Vi proteggo io ragazzi Cado dalle scale Babbala Ti proteggo Uè Bambola Qual fisico Perfetto Tra il primo Sei di asso Sono ascendente Su Valorant Valorant Let's go Ragazzi se noi finiamo questa cosa C'è una fottuta blueprint Alla fine Apex Legends Io Interrogation Su Apex Sero Diamante Interrogation in progress Do not disturb No 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 ragazzi stavano interrogando Ragazzi stavano interrogando No ma ci serve il Mi sa lo chef No si 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 No Raga non ci vedo lo chef Eh lo chef No Ciao bellissimi Un blueprint Ma va che culo Come state ragazzi SMG Era un blueprint Non ci posso credere Non ci posso credere Sta arrivando un motoscafo Sta arrivando un motoscafo No No Che il chef pinguino No era panguino Sedia Non sono stato io Non sono stato io Sedia Sedia No Non sono stato io Te lo giuro Non sono stato io Tornata alla lobby Accurasi comunque Cento per cento Ragazzi Un ottimo finale Questo non sono stato io Non ho stato io Ho pianto Posso chiudere la rec Sì sì E scione Allora Non è No No Non è No